Scommetto che questa è potabile. Vuoi provare? Preferisco bere dalle bottiglie che hai trovato nel carico dell'aereo. Parla di qualcosa nei dintorni. A Guardia di Vita e Morte ci sono due serpenti, cui giaccio intrappolato nel mezzo della loro eterna battaglia. Se avessi saputo che avrei passato tutto questo tempo nella giungla, sarei stato più attento quell'anno negli scavoli. Non faceva per te? La mia situazione familiare non mi permetteva di fare tante cose del genere. Il cinabro era usato nei tempi antichi per creare un pigmento arancione chiaro che si... ... 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 A ... ... ... ... ... ... Sì, mi sento già molto. Sì, mi sento già. 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 Credo che l'acqua alimenti in qualche modo il ponte. Deve fare arrivare l'acqua al secchio. Pesa troppo. Dammi una mano. L'acqua sta riempiendo il secchio. Ottimo. Vediamo a cosa servono i contrapesi. Il secchio perde. Dove si sta per mollare? Dove si sta per mollare? presto, non ce la faccio più a tenerla. da qua. No. 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 Ok. Ok, John, puoi lasciare. No. 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 Una specie di altare o… Mi dai una mano? Certo. Cos'è? È… una ricetta. Sembrerebbe un mix di erbe. Potrebbe servirci se incontriamo altri giaguari. Speriamo di no. L'uscita è di qua. Speriamo. Speriamo. Speriamo.